il notch arriva anche su portatini il nuovo macbook pro ha il notch per le fotocamere anzi per la webcam e il sensore di illuminazione in alto per fare lo schermo leggermente più piccolo come si può vedere non è molto pubblicizzato sul proprio sito vedete qua hanno scelto uno sfondo con questa sfumatura nera apposta per far vedere come c'è qua quando si apre mettono un'applicazione a tutto schermo e quando si mette l'applicazione a tutto schermo siccome qua il titolo dell'applicazione sarebbe invisibile coperta da questo ovviamente viene messa una barra nera in cima allo schermo in questa maniera lo schermo non si nota il notch altrimenti sarebbe più visibile e poi vabbè c'è solita cosa più veloce 100 volte più veloce rispetto a prima quando viene fatto vedere a tutto schermo qua viene nascosto il notch quindi al momento è praticamente invisibile no il fatto ci sia questo notch perché insomma lo schermo è di altissima qualità avendo tutti questi vedete qui tutti questi led individuali possono controllare che nell'area qua nera non ci sia nessuna illuminazione invece nei monitor normali più economici e normalmente ci sono tipo molti molti l'illuminazione è tipo sei zone pochissime zone insomma quindi non c'è questa granulità simile o led insomma ecco qua ora si vede il notch ed è largo secondo me senza motivo perché si è vero che qua c'è la telecamera qua c'è il led per far vedere che attivo e qua c'è il pulsante per il pulsante il sensore per l'illuminazione della stanza e insomma non fare in modo che l'illuminazione dello schermo sia giusta perché per esempio il mio portatile hp di notte mi abbaglia perché di giorno lo deve tenere al massimo e di notte diventa un faro quindi si un sensore di illuminazione è l'ideale però vedete fanno vedere qua lo screenshot con l'applicazione non a tutto schermo secondo me io personalmente preferivo che fosse così ovvero cioè è bellino qua che sia tre millimetri e mezzo di bordo però insomma se c'era un centimetro andava bene uguale poi non lo so comunque sono andato a vedere all'apple store e per vedere per curiosità perché che succede con il mouse si fermerà qua tipo batte oppure è come se il sistema operativo non lo sapesse che qua c'è un buco secondo voi 5 secondi per pensarci e poi parte il video che ho fatto all'apple store ecco fatto ci avete pensato qua tutti gli esempi non a schermo pieno per far vedere che noccia alla fine non rompe le scatole non rompe le scatole no non va a coprire nulla però vedete è photoshop se qua c'era scritto photoshop ora si diciamo che con macOS non è un grossissimo problema perché qua c'è la barra dei menu in teoria i programmi tipo se c'è un menu in più dovrebbe buttarlo qua se uno non ha troppi indicatori non dovrebbe essere un problema insomma pronti per scommettere il mouse rimbalza oppure fa tipo ci passa sotto uno due tre ok ok Grazie a tutti.